Ciao a tutti, sono Giordana Ligetlagi e vi do il benvenuto al mio primo mini video per Reschimica. Oggi vorrei presentarvi uno dei prodotti che utilizzo maggiormente, ossia la Fil Crystal. Questa resina epositica bicomponente deve essere miscelata secondo le proporzioni di 100 a 60 e il suo tempo di catalisi è di circa 12-24 ore. Due piccoli consigli, rispettate sempre le dosi, io di solito mi aiuto con una piccola bilancetta digitale. Secondo consiglio è quello di miscelare il composto lentamente, io lo faccio per circa due minuti, questo vi permetterà di non inglobare bolle d'aria all'interno della resina. La Fil Crystal è ottima per colate di 3 cm di altezza circa e questo la rende particolarmente indicata per lavori di bigiotteria, gioielli e modellismo. Prima di lavorare con la Fil Crystal ho provato diversi prodotti, ma nessuno mi ha soddisfatta come questa resina, perché mi dà la possibilità di produrre creazioni sempre trasparenti e brillanti. Mi raccomando, quando lavorate utilizzate sempre mascherina e guanti di protezione. Bene, non mi resta che augurarvi buona giornata e ci vediamo alla prossima. Ciao!